Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo filmato, se non fate caso al mio aspetto super casalingo anche perchè la protagonista in tale filmato che state vedendo non sarò io e a proposito, state vedendo oltretutto questo video in realtà dovevo uscire ieri che per voi era lunedì 14.30 ma lo state vedendo di martedì alle 14.30 in via eccezionale, non perchè io sto facendo cambi di programmazione, giorni, orari, no e perchè per pubblicarvi questo filmatino medesimo ho avuto alcuni problemi tecnici comunque poi chi mi ha seguito nelle stories di instagram, voi ho detto tutto quanto, chi mi segue lì sa perfettamente tutto e a proposito, come sempre vi dico, se avete piacere nel seguirmi, se magari io a volte manco con i video generalmente al 99,9% va avviso sempre nelle stories di instagram li mi trovate come mululumecap97 name che è qui su youtube, barra su tiktok, barra su facebook però instagram è il social che più utilizzo in assoluto per darvi info di servizio, portarvi nella mia quotidianità le stories, io adoro girare stories e tenervi partecipi vado alle ciance, oggi andremo a fare un po' di smaltimento per quanto riguarda che mi si spezza il cuore sempre e comunque andiamo a fare una bella pulizia nei prodotti skin care andiamoci sotto e andiamo a gettare ciò che è vecchiotto ho preso tutti e dico tutti i prodotti skin care anche se ho fatto caso man mano che mettevo sul letto si ragazzi ho messo sul letto perchè è il punto della casa più ampio dove sono riuscita a mettere per bene tutto il materiale che ho e vi dicevo sto facendo caso che in mezzo ci sono prodotti per capelli roba minima e alcuni prodotti per il corpo è vero che vi ho detto inizialmente che sono tutti prodotti skin care e la maggior parte sono prodotti skin care però evidentemente in mezzo avevo messo i prodotti skin care anche qualche prodotto per capelli, barra per il corpo ma robetta minima e principalmente sto facendo oggi una cernita del mio armadio di tutti i prodotti ricevuti dalle aziende tutti i prodotti ricevuti tramite collaborazioni per youtube cioè per youtube e nei miei spazi youtube, instagram e questa è una minima parte perchè tantissimo tempo fa già avevo fatto un'altra cernita però senza vostra compagnia in separata sede diciamola così non ci resta che incominciare ma quanto sono fortunata che grazie ai miei spazi posso ricevere così tante robine particolari ma è anche grazie a voi e al vostro seguito come sempre vi dico in ogni filmato in collaborazione con l'azienda che vi propongo perchè tutti questi prodotti voi li avete visti nel tempo tramite i video in collaborazione con le aziende ovviamente qualcosa vi ricorderete ne sono certa ed è anche grazie a voi se io ho potuto ottenere in ben sei anni tutto questo ma anche tanti altri che nel tempo ho terminato altri ho gettato perchè saranno un po' rovinati questa diciamo è la minima parte che ho ricevuto negli ultimi mesi sì questa è una parte di tre mesi diciamo dai sempre sto mitico diciamo sì un tre mesi circa di collaborazioni sono messa bella comoda sul letto non vi sta mettendo fuoco ok adesso sì bella comoda pronta a selezionare tutta questa marea di prodotti mamma mia non finiremo mai che poi mi stavo ricordando adesso un'altra cosa se lo ritrovo sicuramente lo cerco e ve lo lascio qui nelle schede informative sotto nell'info box e nel primo commento tantissimo tempo fa circa due anni fa mi sa l'ultimo decluttering risale perchè cerco di evitare di fare questi video con voi altrimenti mi viene proprio uno strazio al cuore già ne faccio abbastanza in separata sete che butto ciò che è scaduto terminato ed è sempre comunque uno strazio al cuore perchè a me dispiace piacendomi questo mondo i prodotti della bellezza in generale è sempre un peccato quando li devo gettare mi piace gettarli quando li ho finiti non quando mi stanno a metà però magari li ho dimenticati mi sono scaduti e devo buttarli per forza per non avere problemi poi sulla pelle sui capelli sul corpo o quello che sia in base al prodotto dove va utilizzato comunque mi stavo ricordando che ho girato due anni fa sempre con voi una bella cernita un altro bel buttare per quanto riguarda i prodotti make up che sicuramente più avanti ne dovrò fare un altro magari lo faccio in vostra compagnia fatemi sapere se questa tipologia di video che non porto tantissimo sul canale perchè penso che magari può essere noiosa allo stesso tempo ci teniamo compagnia e allo stesso tempo magari in mia compagnia potete fare la stessa cosa anche voi dai buttiamola così ho girato comunque una bella cernita che buttavamo cose make up che anche lì o erano finite o erano scadute o era meglio gettare perchè erano mezze mezze vi lascio il filmato come vi ho detto un istante fa se l'avete perso cerco di dilungarmi pur di non farlo va fatta azzurra partiamo partiamo da questo qui non ho un ordine ben preciso partiremo random ci vedremo passare tra le mani tutta questa roba meravigliosa fantastica partiamo da loro queste no perchè le sto utilizzando in questi giorni a giro le uso tutte sono delle creme creme viso come avete letto dal titolo dalla confezione più che dal titolo fantastiche del brand Labcare che è incredibile veramente un brand con cui ho collaborato anni fa sempre una conferma sempre fantastici ve li consiglio i loro prodotti sono ottimi mitici poi passiamo qui Elite Vecca che mi aveva mandato queste sono molto recenti sicuramente ve le ricorderete se avete visto gli ultimi video in collaborazione con la medica azienda coreana Elite Vecca anche questo qui è un rapporto collaborativo che dura da tantissimi anni almeno vi dico almeno 4-5 anni che collaboro con loro mi mandano sempre dei prodotti meravigliosi poi la skincare coreana lo sappiamo è incredibile ma tutta la skincare orientale è pazzesca e queste sono tutta una selezione di maschere viso quelle lì in tessuto che ovviamente non getto perché sono nuove mi sono arrivate forse un mesetto fa due settimane fa non mi ricordo comunque che bello vedere questo reparto dove non getto niente la cosa brutta sarà vedere il mucchietto dove dovremo buttare che lì è veramente tosta fatto sta anche queste cose restano con me poi continuiamo saponette genti non mi ricordo quale brand me le aveva mandate forse creme di venere mi sa infatti vedete creme di venere forse loro che producono questi saponi che sempre se mi seguite sul canale sicuramente ricorderete perché è un altro brand con cui collaboro spesso e che mi mandano sempre cose magnifiche fanno dei prodotti artigianali a dir poco pazzeschi e le saponette hanno lunghissima conservazione perciò anche loro rimangono felicemente con me e con gli altri due amichetti continuiamo con creme di venere questo è un bagno doccia ve l'ho detto in mezzo ci sono anche alcuni prodotti corpo e per capelli ma roba minima perché la maggior parte è tutta skin care questo è un prodotto che ho ricevuto da poco anche lui rimane con me bagno doccia bio anche te bello di mamma rimani con noi continuiamo con prodotti luvus ailard prodotti tedeschi con loro è parecchio che non collaboro più peccato e vabbè ragazzi ci sta anche se non collaboro da parecchio con determinati brand vi dico che anche loro sono incredibili sono vegan bio attentissimi eco sostenibili è un brand tedesco e ho avuto tantissimo piacere a collaborare con loro questi me li tengo perché non li ho ricevuti poi da così tantissimo tempo e sono dei siariviso che per sbaglio nel pacco me ne mandarono due quindi ho già la scorta quando finirò questo qui che utilizzo non vi dico quotidianamente ma già sto a buon punto e anche loro rimangono con gli altri amichetti continuiamo mi sa tanto qui quando il prodotto si separa la soluzione si separa che sotto diventa acqua o vi compare tanto olio vuol dire che la soluzione la composizione si sta separando e questo vuol dire che il prodotto quasi sempre 100% è da buttare vedete qui questo è proprio da buttare è andato proprio era un prodotto crema gel per cellulite localizzata anche questo qui è un brand con cui ho avuto il piacere di collaborare fantastico veramente anche con loro non vi sto dicendo che mi trovo bene con tutti i prodotti con cui ho collaborato cioè con tutti i brand con cui ho collaborato perché ci ho collaborato ma perché ci sono sempre trovata da dio e la dear luren anche questa è un altro brand con cui ho collaborato con loro diverse volte è sempre trovata benissimo ma questo purtroppo va nel reparto facciamo qui il reparto che rimangono e facciamo di qua invece finché ho spazio sul letto il reparto che purtroppo ci lascia e questo qui ahimè purtroppo ci lascia siamo bene che in mezzo a tutta questa meraviglia qualcuno ci avrebbe lasciato e lui è il primo della lista finiamo creme di venere questo qui è uno shampoo restitutivo bio che rimane rigorosamente con me perché ricevuti da poco poi eliz becca questo è un detergente che pulisce in profondità i pori sono quasi al termine me ne manca poco così e rimane rigorosamente con me bello di mamma poi continuiamo abbiamo sempre eliz becca lo shampoo anche questo l'ho ricevuto da poco e rimane sempre e comunque con me vedete intorno alcuni prodotti che metto la bustina è perché ho paura che magari mi macchiano tutte le altre confezioni e quindi metto delle bustine queste qui salvalimenti questo che cos'è è uno shampoo solido aspettate che ve lo vado dalla bustina così lo vedete meglio vi ricordate di questo brand con loro ho collaborato veramente tantissimo tempo fa e questa è stata la nostra unica collaborazione la pure chimp e praticamente loro fanno tutti i packaging o meglio ecosostenibili vegan riciclabili e così via ma producono tutti i prodotti soliti tipo lo shampoo il detergente viso perlomeno all'epoca quando avevo collaborato con loro facevano tutti i prodotti solidi e questo è uno shampoo in genere i prodotti soliti durano tantissimo anche due tre anni e ragazzi questo rimane con me perché vedete è aperto perché a sua volta io a giro tutti sti prodotti che vedete li utilizzo non è che non li uso a giro utilizzo tutto e questo qui si è aperto perché a volte lo utilizzo in sostituzione dello shampoo quello lì classico liquido e ok lui rimane decisamente con me vedete vegan hanno un sacco di filosofie che tendono a preservare il territorio la natura e poi ha un profumo pazzesco questo shampoo solito e ok lo rimetto nella bustina e rimane con me rigorosamente tra i due prodotti luvus questo è un balsamo mani quindi un burro mani molto molto nutriente perfetto per questa stagione che sta arrivando e questo è un balsamo corpo allora lui lo gettiamo perché ha parecchio tempo ormai ma perché non mette a fuoco ok adesso si lui va tra il gruppetto di quelli che ci abbandonano quindi amico per la cellulite ti è arrivato un altro amico corpo neanche a farlo apposta invece questo qui lo lasciamo questo per le mani e lui va a finire al gruppetto che rimane con noi detergente di luren questo rimane con noi anche perché lo sto quasi per finire ed è uno struccante un detergente inizio skin care meraviglioso di venere questa è una crema corpo anche lei rimane con noi devo dire che il gruppetto di quelli che rimangono con noi sta vincendo ampiamente meglio così poi continuiamo con quest'altro prodotto della bg products rimpolpante occhi che è quello che utilizzo tutte le sere questa azienda ve ne ho parlato di recente sicuramente ve la ricordate non tantissimo recente perché anche con loro è passato già un mesetto mi sa aspetto a tanti altri brand che ormai sono dei veterani sul mio canale e li conoscete da anni loro sono proprio dei novellini e rimane poi continuiamo dove andiamo di qua di là tanto una cosa vale l'altra continuiamo per di qua dai altrimenti stiamo facendo solo sto reparto qui facciamo un po' variegato allora continuiamo ragazzi saponette queste me le avevo spedito mi sono sempre creme di venere e sono della voler francesi se non sbaglio dovrebbero essere ne prendiamo giusto vedete voler me lo ricordavo voler atelier la mia pronuncia francese fantastica che ve lo dico a fare le saponette queste sono per il viso in base al colore hanno delle proprietà ce ne sono ben tre in questo sacchetto le saponette hanno una vita non vi dico eterna ma comunque molto lunga la scadenza che possiedono loro rimangono con me abbiamo questo prodotto questo ha un po' di tempo mi sa tanto che lui andrà via ed è un prodotto che serve per rinvigorire la pelle vitamine però è parecchio che ce l'ho non lo uso tantissimo è tanto che mi gira intorno in mezzo ai prodotti quindi ciao se ne va poi continuiamo sempre di qua di là come facciamo andiamo centrale vai buttiamoci sul centro qui allora altri due prodotti della BGS products questi sono nuovi mi sono arrivati appunto in quella famosa collaborazione che abbiamo visto un istante fa che era rimpolpante occhi mi sa che era tutta una collaborazione che mi era arrivata insieme o in due pacchi divisi e loro producono anche prodotti solidi shampoo balsamo hanno linea hair care body care skin care attrezzatura per make up pennelli di tutto e di più sono incredibili ve li consiglio tantissimo un brand con cui mi sono trovata benissimo con tutti i prodotti che mi hanno inviato sono arrivati da poco e rimangono con me sempre creme di penne abbiamo il latte detergente fantastico con cui mi trovo molto bene rimane creme solari spf 50 più e spf 30 queste sfortunatamente le getto perché hanno già un po' di tempo i solari da un anno all'altro vanno gettati perché col tempo perdono la sua azione protettiva quindi non vi vanno a proteggere come direbbe l'etichetta ma molto molto di meno infatti ogni anno andrebbe la crema solare a parte messa tutto l'anno non solamente l'estate ma fino a qui ci siamo andrebbe comprata ogni 6 mesi nuova queste purtroppo vanno via nel reparto dei gettati e che non torneranno mai più con noi poi ma insomma faccio tragica però eh ma effettivamente è così continuiamo ancora di qua non è un po' più veloce altrimenti qui ragazzi stiamo secoli dei secoli pensavo di fare a gruppetti da 4 prodotti così facciamo prima e cerco anche di velocizzarmi io che chiacchiero fin troppo questa è l'argilla fatta proprio fluida quindi va mischiata con un po' di acqua per diventare maschera ed è della for clay penso si pronuncia così for clay clay boh vabbè non mi ricordo la tengo perché ancora è bella funzionante anche queste due saponette officina dei saponi è meraviglioso producono un sacco di saponi artigianali pazzesca questa collaborazione fu le adoro le lascio le saponette anche qui troviamo ancora creme di venere latte corpo anche lui rimane con me e qui rimane tutto quanto il mio olio di ricino che applico su ciglia e sopracciglia un siero viso gold della elizvecca che utilizzo quotidianamente qui abbiamo una crema con tornocchi aurum beauty anche loro sono incredibili veramente un'azienda che vi consiglio da morire come tutte le altre finora viste d'altronde e siero viso rimangono con me perché l'ho ricevuto tutto sommato da poco e mi stanno quasi gli sgoccioli entrambi continuiamo qui allora questa è una lozione corpo che purtroppo getterò perché ormai è un pochino vecchiotta nel reparto dei gettati qui abbiamo una crema mani un po' tutto fare perché mani viso corpo ma la getterò perché anche questa qui ha parecchio tempo sfortunatamente non mi piace sto reparto che si sta arricchendo non mi piace per niente poi qui abbiamo una lozione corpo che penso lascerò questa invece per quanto riguarda quest'altra fortunatamente la devo gettare perché è veramente una vita che ce l'ho e anche lei sfortunatamente va via un altro box di creme di venere mi ha mandato sto box bellissimo di saponette che rimane con me perché come vi ho detto le saponette hanno una scadenza molto a lungo poi qui abbiamo vari campioncini fortunatamente dovrò gettare perché hanno veramente tanto tempo mi dispiace ma purtroppo è così poi qui ho questo body sugaring praticamente è una tipologia per depilarsi è un altro dei tanti metodi che esistono ma anche lui sfortunatamente dovrò buttarlo perché è una vita che ce l'ho poi qui abbiamo un'altra crema super invernale perché è moltissimo ricca ma anche lei sfortunatamente la devo gettare perché è tanto tempo che ce l'ho guardate quanto si sta arricchendo il reparto dei gettati non mi piace sta cosa non posso separarmi da loro però devo farlo come giusto che sia questa è una maschera viso che sto quasi terminando la Pommier Cosmetics anche loro sono non vi dico altro incredibili l'aloe vera anche questa sono quasi gli sgoccioli la lascio così la finisco questo prodotto per capelli è un siero da applicare sulla cute lo lascio poi qui abbiamo un balsamo labbra della gold collagene anche loro un brand ottimo lo lascio perché sto quasi al termine ancora la Pommier questo qui è una soluzione da applicare sulle imperfezioni quando magari capita di avere qualche sfogo sulla pelle qualche bollicina di troppo tende a seccartela ed è un salvavita rimane con me e poi qui abbiamo la cera d'api da applicare sulle mani terna si può dire corpo per avere un effetto molto e dico molto nutriente e irratante e anche lei rimane con moi ci sono i prodotti che avete visto di recentissimo che mi ha mandato Alice Becca per i capelli che è questo prodotto senza risciacquo e questa è una maschera con risciacquo rimangono con me questa è una protezione che in realtà nasce per proteggere i tatuaggi ma come ben sapete io non ho tatuaggi ma all'epoca quando me l'aveva inviata questa azienda l'avevo utilizzata come protezione solare normale ma siccome ha parecchio tempo e non capisco perché ancora non l'ho buttata questa qui va al reparto dei gettati e poi qui ho questa black mask che è finita non capisco perché non l'ho più buttata si vede mi sono dimenticata e anche lei va nel reparto dei gettati ma non gettati perché è scaduta ma perché è finita quindi ben venga l'ultimo sprint finale ho fatto un gruppo veramente un po' più grande così la chiudiamo e via non ci pensiamo più allora l'ozione sotto la doccia lo lascio l'ozione sempre sotto la doccia però mi sa questa qui ha un'azione nutriente questa è idratante è la differenza dei due rimane con me qui abbiamo il tonico viso rimane sempre con me perché me ne è rimasto veramente pochissimo lo terminerò qui i due sieri viso rimangono con me perché li utilizzo quasi tutte le sere rimane con me questa azione purificante mi salva durante il ciclo quando mi escono degli sfoghi dati dal cambio ormonale mi salva tantissimo rimane con me anche questi qui sempre quando sto in fase del ciclo questi due prodotti mi salvano quando ho bisogno poi qui abbiamo il siero viso questo qui anche lo utilizzo è sempre della BGS Products qui abbiamo uno scrub corpo da Deer Severin anche questo è un brand con cui mi sono trovata benissimo quando ho collaborato con loro e poi qui c'è una selezione di detergenti viso i mousse anche questa azienda la Guanji Su spero si pronuncia così sempre comunque orientale anche loro è stata un'ottima collaborazione questo qui rimane tutto quanto con me facciamo un riepilogo di cosa rimane e cosa non rimane questi sono tutti i cosmetici che rimangono con me dai sono tanti ringraziando Dio non abbiamo dovuto gettare troppe cose diciamo sono più le cose che rimangono con me che gettiamo per fortuna come ben vi ripeto questo è il gruppo che rimane con me e adesso vediamo il gruppetto che invece sfortunatamente non ce l'ha fatta e dovrà andare via definitivamente questo è il gruppetto che non ce l'ha fatta superare la prova di non eliminazione e loro se ne vanno via ciao ciao amici amici cosmetici amici miei mi sono messa letteralmente a dura prova perché per me gettare cosmetici il mondo della bellezza comunque cose in generale è sempre un dispiacere ma quando va fatto rigore disciplina va fatto e qui bisognava fare una bella cernita il gran gruppo rimane con me un piccolo gruppo lo lascio andare a malincuore ma lo devo lasciare andare ne sono uscita sconvolta mamma mia ne sono sconvolta veramente ok ora rimetto tutto a posto quello che ho da rimettere a posto getto questa piccola quantità meno male che è piccola al secchio e niente ragazzi con questo è tutto allora siccome il video che state vedendo doveva uscire questo qui in realtà lunedì però lo state vedendo martedì 14.30 extra programmazione come vi ho detto è uscietera 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 senza che mi dilungo troppo come al mio solito ci vediamo ugualmente dato che la programmazione continua come regolarità domani mercoledì 14.30 con nuovi sul canale poi venerdì 14.30 con nuovi sul canale un bacione immenso sono provata da tutto ciò veramente sembrerà una sciocchezza ma ne sono leggermente provata ok ci vediamo mercoledì 14.30 con nuovi sul canale ciao ciao